Consulenza con Silvia per valutare la compatibilità di una cavalla nelle terapie assistite. Silvia l'avete già conosciuta attraverso Pupa, quella cavalla che aveva difficoltà ad allontanarsi dal gruppo di cui ho parlato nel video sul rinforzo positivo che vi metto in descrizione. Yuna, la cavalla da valutare, ancora non vive con Pupa ma sta per andare a vivere con lei. Comunque la conosce già da molto tempo. In quel giorno della consulenza Yuna è venuta a casa di Pupa e le due si sono incontrate. L'incontro è andato piuttosto bene, tranne che per una cosa, che praticamente Pupa aveva bisogno di gridare a Yuna per chiederle di allontanarsi, cioè praticamente doveva proprio minacciare un calcio o un morso invece di fare i soliti rituali, come praticamente se Yuna non riuscisse a leggerli. Allora ho parlato con la proprietaria di Yuna e lei mi ha detto che in linea generale Yuna si fa fare un po' di tutto. Per esempio anche si lascia mordere i garretti dalle oche senza dire niente. Allora ho pensato che ci possono essere due possibilità di evoluzione di questa cosa, due motivazioni dietro. Una è che Yuna, che ha quattro anni, sia ancora abbastanza giovane, un po' sulle nuvole e abbia in generale un'indole molto calma per cui in questo momento lascia correre le cose. Magari non dice che cosa le dà fastidio perché magari non le dà sufficiente fastidio e in generale non sa leggere molto bene i segnali degli altri. Quindi vedremo crescendo che cosa succederà. Dall'altra parte c'è la possibilità che invece Yuna stia reprimendo il suo stato di rabbia e questo anche lo possiamo vedere soltanto nel momento in cui Yuna e Pupa vivranno insieme in maniera costante e quindi le loro dinamiche cambieranno. Però nel frattempo è emersa un'altra cosa relativamente a Pupa invece che a Yuna. Pupa, quando lei e Yuna si incontravano naso naso, al posto di chiedere un attimo di spazio rampando con un solo arto, come fanno di solito i cavalli in questa situazione, rampava con due arti, gli anteriori, chiaramente in direzione di Yuna. Questo è un comportamento abbastanza aggressivo e poi il modo in cui lo faceva era esplosivo. Allora Pupa vive in un gruppo con due pony molto piccoli di altezza e due asinelli anch'essi molto piccoli mentre Pupa è un bel cavallo grande e nel gruppo lei è una mediatrice, quella sempre calma. C'è la possibilità che magari incontrando Yuna, che è effettivamente un cavallo della sua dimensione, che però in generale per ora ha conosciuto quasi solo in contesti di escursione, di passeggiata, quindi con le persone sopra oppure con la sella sopra, che in questa situazione si sia un po' lasciato andare, diciamo, dimostrando tutto il suo scazzo nei confronti della situazione e quindi dicendo finalmente a Yuna, in una maniera un po' troppo esplosiva, un po' aggressiva, come si sentiva. Anche in questo caso dobbiamo vedere come evolverà il comportamento di Pupa vivendo con Yuna, quindi vivendo finalmente con qualcuno letteralmente alla sua altezza. Se hai bisogno di una consulenza, contattami www.etologiequina.it Ciao!